Buongiorno a tutti, per chi non mi conoscesse il mio nome è Domenico Procopio e sono direttore commerciale Italia di FK Group. Sin dal 1961 la nostra società è stata impegnata nell'analisi, nella progettazione e nell'automazione della sala taglio in Italia e nel mondo. Siamo sempre stati impegnati nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e nella ricerca di soluzioni per rendere sempre più saldo e forte il nostro rapporto con i nostri clienti. Ultimamente stiamo ricevendo sempre più frequentemente delle richieste di informazioni su bandi, finanziamenti, prodotti finanziari per agevolare i loro acquisti e quindi abbiamo messo a disposizione per chi lo desiderasse una società di consulenza di finanza agevolata che possa analizzare perfettamente il vostro profilo aziendale e cercare nell'ambito di queste offerte che in questo momento in Italia sono veramente innumerevoli, una società, un bando, qualcosa che possa aiutarvi a fare i vostri finanziamenti per i vostri acquisti. Mi auguro che abbiate apprezzato molto il nostro impegno e la nostra ricerca, quindi rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni mettendovi poi in contatto con questa società. Grazie infinite per la vostra attenzione e un caro saluto a tutti.